John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel video dei pronostici perché domani ragazzi c'è la grande giornata di Serie A per chi non lo sapesse domani giocano tutte, tutte, tutte le partite del campionato di Serie A domani è sabato e c'è la giornata speciale e quindi oggi ho deciso di farvi i pronostici oggi come farò? Vi dirò un pronostico per ogni partita l'obiettivo è prenderne sette, per dire, sette poi ne posso prendere anche due, non è che io sia un mago però ci proveremo detto questo partiamo spediti e partiamo subito con la prima gara anzi vi raccomando ragazzi, tanti mi piace se anche per Natale volete appunto i pronostici se questo video non raggiungerà un numero abbastanza sostanziale di mi piace e nemmeno di vi uso ovviamente la serie dei pronostici verrà accantonata ufficialmente detto questo Lazio-Cagliari la Lazio ragazzi per me è più forte ovviamente del Cagliari gioca in casa, la Lazio deve per forza far punti perché non può continuare a far sempre così male il Cagliari invece ultimamente sta facendo anche discretamente bene alcune cose mi fanno pensare magari ad un Cagliari che ha sorpresa bla 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 però no, dico che questa la vincerà la Lazio per me questa la vincerà la Lazio Empoli-Sampdoria Empoli-Samp partita difficile, molto molto difficile anche perché l'Empoli da quando ha cambiato guida sta giocando veramente molto bene con Iachini, a me non si dice, a me sta sorprendendo la Samp è una squadra imprevedibile che per me potrebbe puntare all'Europa però è molto imprevedibile io dico che due gol tra tutte e due le squadre li vediamo due o più gol, due o più gol li vediamo Genoa-Atalanta, Genoa-Atalanta, Genoa-Atalanta allora il Genoa c'ha più on-tech, c'ha qua me questo basterebbe per dire che il Genoa c'ha un attacco abbastanza forte dall'altra parte c'è l'Atalanta che è a meno due, a meno tre, a meno tre mi sembra dalla Champions League quindi è un'Atalanta che corre, è un'Atalanta che vorrebbe far punti, continuare a far punti Gasperini è l'ex, quindi c'ha anche un po' il dente avvelenato ma in realtà nemmeno troppo il dente avvelenato perché poi se ne è andato le forze del Genoa c'ha un pochino più il dente avvelenato ma è un rapporto comunque così lungo e difficile da distruggere alla fine dei fatti ragazzi io penso che comunque l'Atalanta faccia abbastanza bene a Genova non penso, cioè non posso dire che vincerà vi dico però che secondo me almeno un gol tutte e due le squadre lo fanno per me entrambe le squadre vanno in rete Milan-Fiorentina ragazzi Milan-Fiorentina sarà una partita per me bloccata fu così che finì 5-2 no il discorso è che il Milan c'ha tanti infortunati è senza centrocampo dall'altra parte la Fiorentina non segna cioè ragazzi Simeone ok ha fatto due gol nelle ultime due partite inaspettato però solitamente non segna nemmeno con le mani per me faranno al massimo tre gol tra tutte e due le squadre contando i gol di tutte e due le squadre tre gol li fanno più secondo me non li fanno io la penso così Napoli-Spal vado diretto vince il Napoli il Napoli è troppo superiore non può aspettare faticherà perché la Spal gioca bene perché la Spal sta a mettere in difficoltà tutti però il Napoli non può aspettare nel giorno di Juventus-Roma di perdere qualche punto esatto o di stare a guardare quello che farà la Roma con la Juve e quindi dico che il Napoli vincerà Sassuolo-Torino Sassuolo-Torino faccio un po' il discorso di Milan-Fiorentina anzi vi dirò quando ci sono due squadre che segnano tanto che giocano bene che divertono come possono essere Sassuolo e Torino io mi aspetto sempre che facciano un sacco di gol e poi alla fine di gol non ne fanno proprio per questo secondo me sommando tutte le squadre e le reti che faranno al massimo segneranno tre gol non di più io la penso così Udinese-Frosinone qua ragazzi vado con la vittoria dell'Udinese Frosinone che per me non è pronto a questa Serie A mi dispiace perché poi si era detto bene del Frosinone che ha fatto un buon mercato e tutto l'Udinese mi sembra leggermente più pronto poi c'è un tecnico Nicola che sta facendo molto bene occhio, occhio, occhio perché il Frosinone ha cambiato allenatore però al di là di questo per me l'Udinese vincerà ci sta che comunque pareggiano alla fine è uno scontro salvezza per il momento però io dico io vado sull'Udinese Chievo-Inter io qua ragazzi vi dico una cosa molto scontata ma molto scontata vi dico che ho pareggio o non vince l'Inter voi mi direte grazie lo so però io vi direi tranquillamente che vince l'Inter il discorso è che mi fa paura il Chievo perché quando l'Inter che è una squadra quadrata che è una squadra che gioca a pallone che è una squadra che potrebbe tranquillamente quest'anno arrivare in Champions League va ad affrontare una squadra ultima in classifica che non ha più niente da perdere e che da quando ha cambiato allenatore di punti ne fa a me questa fa paura io penso e continuo a pensare che l'Inter vincerà però dico che ho pareggio o non vince l'Inter per stare leggermente più sicuro Parma-Bologna Parma-Bologna anche qui è molto rischioso io penso che questa sarà l'ultima partita di Inzaghi io penso che dopo questa Inzaghi verrà esonerato a meno che non faccia il colpaccio non so però è un mezzo derby il Bologna ha bisogno di punti vitali il Parma vuole continuare la rincorsa magari ad una storica Europa dopo che ha fatto serie D, serie C, serie B, serie A Europa sarebbe qualcosa di clamoroso secondo me o vince il Parma o pareggiano io la penso così è difficile che vinca il Bologna ci sta perché poi è una partita da triple è una partita veramente difficile da pronunciare però io dico che o vince il Parma o pareggiano Juventus-Roma l'ultima gara della giornata Juventus-Roma la Juventus ragazzi è più forte la Roma arriva in un momento disastroso penso che qualora la Roma dovesse uscire male da questa gara di Francesco verrebbe esonerato mi dispiace dirlo ma io ragazzi dico che secondo me la Juventus vincerà tifo-Roma quindi sono fiduciosissimo fiduciosissimo che brutta parola inventata da me della mia Roma però penso che alla fine della fiera la Juventus uscirà vincitrice perché ha fatto 15 su 16 che è detto questo fatemi sapere la vostra qua sotto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto tanti mi piace se volete settimana prossima altro video pronostici e come sempre noi ci vediamo ad un prossimo video fatemi sapere la vostra qua sotto mi raccomando dai ragazzi e buona serie a tutti stasettimana si divertimo tutto